e oggi sono un nuovo video sempre su danglite terzo video al giorno quindi spollicare quindi andiamo a dare i meravigliosi che avevo curato c'è un fasciato mark che sta sembra che l'hanno squartato mille pezzi invece no vabbè basta di cacchiare ok tutto fatto che poi non è stato difficile che altro posso fare perché fammi pensare rahim sei una bell'essere un'intelligente per il nido cariche esplosive davvero non ho mai parlato di esplosive la si vede dentro un uglio quando menti la mia idea funzionerà davvero pensi di essere immortale ma chi sei mia madre no e lo sai nostra madre ma non c'è stato perché vuole amire fratello giusto volevo ringraziarti per ciò che hai fatto per me e dirti che mi spiace molto per la tua perdita ti devo la vita a te e ad amir già è vero vuoi ricambiare il favore fai in modo che quell'idiota di mio fratello non si ammazzi niente esplosivi rai ma non c'è che cazzeccato che erano fratelli oh ah ah lol allora allora può bastare così posso parlare con breken adesso innanzitutto vai a metterti dei vestiti puliti vi troverai nella tua stanza la 194 perché i miei non vanno bene ti serve qualcosa di più adeguato ordine di breken chiamami dopo che ti sarai cambiato si però calmo mica mi devono uccide perché non mi sono cambiato devo cagare sto cagando sto cagando yeah che bello ok devo mettermi i vestiti puliti ma no ci mettessi io così poco a vestirmi va bene sono pronto dov'è breken non così in fretta amico se vuoi guadagnarti un posto tra noi dobbiamo scoprire cosa sai fare vai alla palestra e al piano più alto appena un paio di rampe più su in caso agli zombie assomigliano alle tenaglie ma che domanda cretina è è proprio che mi prende in giro eh stupido 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 come se mi rimetti è qui bello rahim dove sei non ti vedo qui vicino rahim di tutto genero ho sentito ho sentito avrei allora che stai aspettando vieni qui Dovresti sentirti a casa in inglese gru si dice green no? Ma fatta! Pando! Comunque! Devo salire qua! Oh! Porco! Babadam! Buon giulo! Ma viene! Salut! Cane! Corri e scappa! Corri e scappa! Corri e scappa! Benvenuto alla palestra! Cominciamo dalle basi! Devi imparare a correre! Devo imparare a correre che intendi? Fa quello che ti dico e basta chiaro! Ora salta giù fino in fondo! Se ti piacerebbe un frate! Ma sei matto è un suicidio! Non essere tifono! Dai non dici son serio! Guarda e impara! Ehi! Ehi! Che tifono! Ehi! Che tifono! Ci sei cascato come un merco! Sei un bastardo! Non ti piacciono gli scherzi! Avanti! Porta qui le chiappe! Porca di una puttana! I can't fly! I can't fly! Oh merda! Oh merda! Ma verrai che spasso! Non abbiamo ancora finito! Se vuoi sopravvivere all'esterno devi sfruttare l'ambiente! I mangiacarne non sanno arrampicarsi! Quindi più ostacoli ci sono in giro! E meglio è per te! Ti ho preparato a delle situazioni un po' particolari! Vediamo come te la cavi! E' il comparto! E' Goku! A volte conviene strisciare attraverso i passaggi più stretti! Così i mangiacarne avranno difficoltà a seguirmi! Certo! Cerca di non rallentare una volta che inizi a correre! La fuori se ti fermi sei perduto! Ah eh ragazzi vuoi voler dire... Non male! Per un novellino! Passate nel canale in descrizione dei pro player community Pro players community Che... Faccio video con... Sharky J E DabbyKiller23 Vi ho detto... Tutti e due canali in descrizione! E... Bene! Sali su quell'impalcatura! E cerca di non cadere! Perché non ci sono reti di sicurezza! Oh come no! Oh boh! Comunque iscrivetevi ai dei pro player community Che... Fanno video divertenti! Infatti ci sto pure io si con... C'è... Un po' leader quindi... Cioè... Cosa di adesso più... Di... 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 Il mio preferito! Salta, aggrappati e tirati su! Se non sai farlo non sopravviverai nemmeno a 10 minuti! Iscriveteviiii... Quindi nei pro player community Non... Non ricordo se pure loro hanno un canale però... Dove lo chiede? Iiii... Bel lavoro! Bene! Passiamo alla vera prova! Torna alla crew e mentre corri metti in pratica tutto ciò che hai imparato! Ok... Dove sta la crew? Ah! Che passate qua! Ok... O... Di... Sicuramente... Di... Sicuramente qua eh... Bello scicherò perché... Failerò un sacco di volte! Però... Lascia di perdere! Ma... Non puoi produire! che durerà un sacco ce l'ho fatta l'accordo può bastare hai talento amico o forse queste cose non sono una novità per te allora? le avevi già fatte? no giusto un po' di atletica leggera alle scuole superiori allora sei un prodigio della natura mai visto niente di simile beh direi di finire il video qui iscrivetevi commentate e spodiciate e you can see me ciao